E il sorriso di Rina, una bambina ucraina di due anni, la testimonianza più gioiosa di ciò che la Caritas fa ogni giorno in Casastani, a San Giacomo. 96 accolti tra madri, bambini e altri minori scappati dalla guerra con l'accompagnamento di un parente o di un'amica di famiglia. Il lavoro quotidiano degli operatori è quello di ridare loro un briciolo di normalità, a partire dal reinserimento scolastico dei 49 minorenni. Il nostro obiettivo qui è dare loro un'accoglienza per cercare di ricostruirsi una vita qui a Trieste. Quindi ci stiamo occupando degli inserimenti scolastici e anche della ricerca lavoro. Adesso in questo momento ci stiamo occupando dei centri estivi per i bambini, insomma quello che si può per cercare di tornare a dar loro una vita normale. Stamani la visita con l'accompagnamento del prefetto annunziato Vardè di una delegazione di Forza Italia composta dal senatore Franco Dalmas, dall'onorevole coordinatrice regionale Sandra Savino e dal capogruppo in consiglio comunale Alberto Polacco, che ha toccato con mano la quotidianità che vivono queste persone. Emblematico l'abbraccio commosso del consigliera, la piccola Irina, dopo che la madre ha ricordato quanto alla bimba mancasse il padre, rimasto in patria a combattere. Poi le considerazioni tecniche su ciò che Parlamento e Governo stanno mettendo in campo per l'accoglienza. Qui devo dire che assistiamo ad un esempio mi pare virtuoso, tranquillo, funzionante di questa prima gestione attraverso i centri di accoglienza straordinari, questi casi che sono gestiti sostanzialmente per il conto delle prefetture. Alcuni problemi che avevamo individuato all'inizio, erano emersi all'inizio praticamente di questa vicenda, purtroppo delle mezze della guerra erano legati anche ai minori non accompagnati, e rispetto ai minori non accompagnati credo ci siano stati fatti dei passi avanti importanti nella collaborazione tra le varie procure dei minori, le questure, quindi sostanzialmente mi sembra che lo Stato sia impegnato e accanto a questo devo dire che vi anche si riscontra una gara di solidarietà da parte della popolazione.